... E poi cercano e cercheranno di dividerci tra italiani e stranieri, tra bianchi e nero, ma noi sappiamo che, come dicevamo in prete, non la legge locale, la nostra sola parte è la propria polizia, gli oppressi e gli esp Ilfruttati. La nostra non è una volta altruista o bonista, è una volta per i nostri stessi diritti, per ribaltare il meccanismo di accumulazione che da decenni ormai ci impoverisce, tutte e tutti. Con questo spirito ricordiamo oggi il nostro fratello e compagno sumeria. Non dimenticheremo la sua lotta, non ci arrenderemo. Siamo tutti i suoi da, 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 siamo tutti i suoi da. Siamo tutti i suoi da, siamo tutti i suoi da. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!